La scorsa settimana la Lega Basket Serie A ha diramato la media spettatori per il girone d'andata. Secondo i dati ufficiali, le gare della Sirigas Scandone-Avellino sono seguite da una media di 2.651 spettatori per un totale di 21.209 presenze stagionali. Sui dati della Scandone pende la squalifica della prima giornata di campionato che ha visto la formazione di Vucinic giocare in campo neutro a Pistoia. I dati pubblicati vanno valutati anche in base all'impianto a disposizione alle politiche di ticketing della società e ad altri fattori. Non è un caso se al primo posto di questa speciale classifica ci sia Milano che ha un palazzetto da 12.000 posti e poi Trieste per cui da neopromosta porta una media di 5.720 spettatori con un palazzetto di poco inferiore alle 7.000 unità. Bene Sassari e Bologna che hanno una presenza media rispettivamente di oltre 4.000-5.000 persone in impianti relativamente piccoli. Restando in casa Avellino i cui abbonati sono attorno alle 1.800 unità bisogna considerare che c'è uno zoccolo duro ben riconoscibile ma nonostante i 20 anni di Serie A si fa fatica a muovere pubblico per una totale assenza di politica di ticketing. Le partite che hanno visto maggior pubblico sono state quelle di cartello con Milano e Venezia troppo poche per una squadra che occupa comunque i primi posti della classifica. In questo girone di ritorno la società Bianco Verde provvederà anche a migliorare da questo punto di vista.